Trachitico e ne scardellato. E poi non voglio morire zidella come sia Maria. Pagaresti per fare la mia fine. È la fine di una signorina per bene. E se non l'ho sposata, perché ho sempre disprezzato gli uomini. Mamma dice sempre che tu sei nata a zitella. E allora? Vedete avanti. Che fate lì, impalati? Vi volete dire lo scopo, la ragione, il perché della vostra venuta? Mamma, ve l'ho già detto. Siamo venuti per parlarvi di matrimonio. Siedi a Povella? Vieni qua. Chiami? Gaetano. Gaetano, che bel nome. San Gaetano tiene. E quanti anni vieni? 34. 34. Età birbultà. E che mestiere fai? Io faccio il... Il rotino? No, no. Operatore di cabina. Operatore di cabina? Cabina cinematografica, cine. Ah, cine. Mamma, mi mamma, diceva che per conoscere un uomo ci vogliono sette botti di sole per sapienza. Vi dovete sconagliare, vi dovete scrutare, vi dovete affamigliare. Eh, sì, per me c'è tempo. Tre anni. Ecco il verdetto.